Buonasera cari telespettatori benvenuti a questo spazio di approfondimento politico come ormai di consuetudine in questo periodo. Riospitiamo un'altra volta graditissima ospite Marta Ruggeri candidato a sindaco per i 5 Stelle dove abbiamo sviscerato tanti argomenti in questi approfondimenti quello che vogliamo toccare quest'oggi questa sera è un argomento estremamente sentito anche da Fano e da tutto l'Interland perché è un motore è un motore anche di economia parliamo di turismo di eventi c'è stato recentemente proprio qui ospite Alberto Bonisoli il ministro dei beni e le attività culturali che appartiene al Movimento 5 Stelle e un parlamentare del Movimento 5 Stelle col quale ci sono state tante argomentazioni una però delle più trainanti Marta Ruggeri è stato quello dell'Isipo insomma Bonisoli ha fatto delle affermazioni ha detto delle cose importanti che hanno fatto tanto piacere e se il Getty Museum abdicherà alla sua condotta ostracista insomma forse vedremo il Isipo qui in Italia ma noi lo vorremmo vedere a Fano insomma questo è l'augurio che ci facciamo tutti ci saranno possibilità per questo? Allora penso di sì insomma il ministro Bonisoli è venuto appunto a Fano recentemente chiaro che non ha potuto dichiarare apertamente che cosa succederà quando verrà conclusa questa avvertenza con il Getty Museum di Los Angeles per il rientro in Italia dell'Isipo perché appunto l'avvertenza è ancora aperta e il governo sta facendo un'opera di diplomatica un'azione diplomatica per il rientro di questa statua in Italia però gli è scappata una battuta sul finale dell'incontro quando gli ho consegnato la statuetta dell'Isipo così come ricordo di Fano una battuta significativa che indica qual è la sua volontà personale perché ha detto parto con la statuetta dell'Isipo come promemoria e tornerò la prossima volta con l'Isipo vero quindi essendo un ministro del Movimento 5 Stelle ed essendo venuto quel pomeriggio insomma Fano proprio a sostegno della mia campagna elettorale io credo che quell'impegno possa valere doppio ecco ecco tra l'altro poi lo ricordiamo è andato sulle cronache, sui giornali anche per la sua iniziativa ha posto veramente un bel filtro cosa che fino ad ora non era mai stata fatta ha detto un attimo cari musei passate dal ministero prima di prestare, di fare quindi questa è una presa di posizione molto decisa che non ha precedenti no, non ha precedenti, è una posizione assolutamente importante e quindi evidentemente il ministero per la prima volta nella figura di Alberto Bonisoli si sta prendendo cura la questione ci fa molto molto piacere, poi ricordo anche che a Fano abbiamo ben tre parlamentari che sono in ottimi rapporti con il ministro quindi sicuramente faranno un'azione nei suoi confronti e stanno facendo un'azione nei suoi confronti di promemoria quasi quotidiana ecco, siamo in buone mani ora o mai più insomma, ecco va bene, allora il vostro programma è veramente denso del tema culturale puntate molto su questo aspetto anche appunto sulla valorizzazione del patrimonio culturale quindi Marta Ruggeri che cosa propone a riguardo di Romanità, di Lisipo ecco che cosa soprattutto non è stato fatto a questo riguardo sino a domani? allora noi vogliamo operare una promozione importante appunto legata alla statua dell'Isipo e legarla naturalmente al patrimonio archeologico della nostra città perché c'è un filo conduttore insomma l'Isipo era un artista al seguito della corte di Carlo Magno e questa statua è una delle poche a grandezza, di pochi bronzi a grandezza naturale che sono rimasti insomma fino ai nostri giorni quindi ha un valore veramente molto importante, quasi inestimabile e il rapporto con Fano esiste perché naturalmente è stata riscoperta Fano, ritrovata Fano e Fano è anche il luogo in cui si dice che Vitruvio abbia costruito questa basilica e il rapporto tra arte romana e arte ellenistica insomma è molto forte tant'è che Vitruvio stesso all'interno del suo trattato enciclopedico di architettura cita proprio Lisippo e fa riferimento al canone artistico ellenistico quindi una sorta di filologia storica ci dà conferma che questo legame veramente esista però la cosa più importante che bisogna fare a questo punto è realizzare un museo in cui possa essere conservata questa statua qualora arrivi quindi adesso si sta studiando l'idea, un progetto insomma per realizzare un museo archeologico nella zona dell'ex Filanda vicino dove è stato scoperto il teatro romano però è anche vero che si potrebbero anche prendere in considerazione altre soluzioni noi abbiamo intenzione insomma di farlo anche perché il teatro romano va reso fruibile vanno terminati gli scavi quindi insomma ancora di lavoro ce n'è da fare però quello che è assolutamente importante ha detto il ministro stesso è che Fano siede su un tesoro inestimabile e quindi dobbiamo cercare di valorizzarlo per esempio esiste la necropoli che è stata trovata tra via Roma e via dell'Abbazia che è stata a suo tempo musealizzata, adesso si trova nei sotterranei del centro commerciale che è stato lì costruito ma non è fruibile quindi questo è un grande peccato insomma per tutta la città la stessa cosa riguarda l'acquedotto romano che addirittura è stato funzionante fino alla fine dell'Ottocento sono degli ambienti ipogei molto affascinanti però non sono fruibili quindi dovremo cercare assolutamente di valorizzare questi beni che abbiamo e di fare una promozione integrata e basandoci anche sull'utilizzo delle nuove tecnologie come la realtà aumentata o le applicazioni per sistemi elettronici come smartphone, ipad, ipod insomma tutte queste cose qui che suscitano molto interesse soprattutto da parte dei giovani quindi è un modo per avvicinarli a fare queste visite e queste conoscenze quindi il ministro Bonisogli ha detto che ci vorrà qualche anno prima che l'avvertenza si concluda Il Ghetti detiene quest'opera dal 1977 quando è arrivata nel museo uscendo essendo stata esportata illegalmente dall'Italia e quindi noi abbiamo intenzione di creare un'attesa e di cominciare già una promozione adesso sperando che torni comunque presto a Fanno e l'isip originario creando un ologramma ad altezza naturale che potrebbe essere insomma un'opera di richiamo fin da subito Ecco, quindi quando a domanda specifica il ministro Bonisogli ha risposto che a questo riguardo a Fanno c'è ancora tanto da fare forse intendeva dire proprio questo c'è tutto un percorso da mettere in moto C'è un percorso da mettere in moto, il ministro intendeva anche altro cioè oltre alla realizzazione del museo per cui ha anche detto insomma che il ministero è anche disponibile da darci una mano eccetera lui diceva che bisogna fare anche altre operazioni perché questa statua ha un valore come dicevamo prima veramente molto molto grande è l'unico bronzo originale di lisipo che è arrivato fino ai nostri giorni quindi se venisse dato a Fanno è chiaro che Fanno deve essere pronta e in questo senso Bonisogli chiedeva proprio un invito ad occuparci anche di altre questioni come la ricettività alberghiera, come per esempio la viabilità urbana che va aggiornata, sistemata è un discorso che abbiamo fatto tante volte e anche un occhio alla mobilità sostenibile lui diceva queste sono le tre cose che dovete sistemare oltre alla realizzazione del museo noi siamo pronti a raccogliere questa sfida perché tra l'altro questa idea di sviluppo è già contenuta all'interno del nostro programma Fanno sicura di sé perché crediamo fortemente che uno sviluppo culturale deve essere per forza legato a uno sviluppo economico, turistico e anche sociale quindi invito chi fosse interessato ad andare a approfondire queste cose relative al programma che trova sul mio sito Certo, quindi insomma sono tante le sfaccettature che possono contribuire a un habitat per il turista molto più coinvolgente, molto più calato nella realtà romana che mi sembra di interpretare sia uno dei vostri assi portanti Sì, tra l'altro abbiamo intenzione di chiedere anche l'inserimento delle mura romane e della città di Vitruvio tra il patrimonio dell'umanità inserendolo nella lista dell'UNESCO, predisposta dall'UNESCO e anche in questo caso ci sarà bisogno del governo e proprio del Ministero dei beni culturali e quindi il Ministro ha assicurato, ha detto che tutto quello che è contenuto all'interno del programma mio sarà realizzato con l'aiuto del governo quindi ci sono diversi punti in cui abbiamo anche scritto nero su bianco nel programma in che cosa ci può aiutare l'attuale governo perché insomma i 5 Stelle stanno governando il paese quindi è una possibilità che ci viene data oggi non si sa quando ne fanno, avrà quest'altra possibilità un'altra possibilità simile quindi va assolutamente sfruttata quella dell'UNESCO sicuramente è una bella bandierina ma a Fano universalmente è riconosciuta una moltitudine di eventi soprattutto concentrati nel periodo estivo che forse da nessun'altra parte nelle nostre città limitrofe, nelle nostre realtà limitrofe si possono trovare ogni fine settimana il turista qui ha di che cosa fare c'è tutta però una moltitudine di soggetti che fanno sì che tutti questi eventi micro, grandi e medi prendono vita quindi mi ripenso al volontariato, tutte le associazioni e quindi anche nel vostro programma c'è attentamente un paragrafo dedicato a questo aspetto e anche al coordinamento delle iniziative che sicuramente meritano una regia un po' più forte per evitare doppioni, sovrapposizioni o anche cose che alle volte poi non vanno molto bene quindi insomma punterete su queste manifestazioni ma quali sono quelle che più vi stanno a cuore? allora innanzitutto bisogna chiarire che noi appunto come diceva lei crediamo che l'assessorato al turismo e alla cultura deve essere un assessorato forte che certo dialogando con tutti i soggetti compresi i privati che organizzano eventi deve però avere un ruolo di regia degli eventi delle manifestazioni importanti perché la questione delle sovrapposizioni purtroppo è una cosa estremamente spiacevole che negli ultimi anni è venuta troppo spesso quindi bisogna cercare assolutamente di dilazionare gli eventi nell'arco di tutto l'anno e di non concentrarli solo durante la stagione estiva perché bisogna essere di richiamo turistico durante tutto l'anno visto che vogliamo puntare sul turismo come leva economica per far ripartire l'economia della città e poi l'altra questione che va su cui bisogna lavorare e noi abbiamo intenzione di farlo è quello di ampliare anche un pochino il raggio geografico in cui gli eventi vengono organizzati per esempio in questi giorni siamo stati a Torrette Ponte Sasso, Tombaccia insomma nella zona di Fanno Sud e quella è una zona che ha la maggiore ricettività di tutta la nostra città però ha pochissimi eventi organizzati lì e invece bisognerebbe cercare di distribuirli anche geograficamente e poi per quanto riguarda la conclusione della domanda che mi faceva cioè su quali eventi abbiamo intenzione di intervenire maggiormente finanziandoli chiaramente in forma dovuta e sostanziosa sono due, sono il Carnevale e l'Affano di Vitruvio il Carnevale, cioè ci vantiamo del fatto che il Carnevale più antico d'Italia è nato nel 1347 attraverso, siamo risaluti a questa data attraverso delle fonti documentali e quindi secondo noi va chiesto il patrocinio anche di questa manifestazione dell'UNESCO perché ha un valore culturale molto forte e avrebbe un valore spendibile anche dal punto di vista della promozione non solo del Carnevale stesso ma della città e poi occorrerebbe secondo noi lavorare sulla possibilità di un ritorno del Carnevale estivo che aveva grande successo e poi creare quei pacchetti appositi di turismo esperienziale e anche scolastico che potrebbero essere di richiamo tutto l'anno proprio perché Fanno sia la città del Carnevale tutto l'anno insomma c'è tanto da lavorare anche sulla questione della Fanno di Vitruvio perché in questo concetto intendiamo inserire anche la settimana della Fanno di Cesare che però è appunto una settimana estiva ma dobbiamo programmare e promuovere le nostre bellezze archeologiche tutto l'anno in modo che siano magari soprattutto le scolaresche o il turismo familiare ad invadere la nostra città visto che appunto come dicevamo prima è pieno di bellezze quindi anche su questa parte per chi volesse approfondire insomma nel nostro programma che è stato reso pubblico primo tra tutti i programmi delle varie coalizioni tant'è che online dal 9 di febbraio e consta di insomma un buon numero di pagine perché siamo arrivati a 149 quindi insomma quasi 150 pagine di programma di cui stiamo adesso predisponendo una sintesi però sicuramente tra tutti i programmi presentati dagli altri candidati a sindaco il 27 di aprile scorso in comune questo è certamente quello più ricco quindi invito chi abbia voglia di togliersi qualche curiosità ad andarlo a sfogliare insomma 150 pagine è quasi un best seller sì è un romanzo è un romanzo con appendici che però tratta della città di Fano allora Marta Ruggeri il turismo è sicuramente il diretto portato dei beni culturali di quello che è il nostro patrimonio quindi si possono sfruttare per un turismo immagino questa è la vostra idea tutto l'anno non H24 ma H12, 12 mesi questa è almeno l'intenzione anche perché ci sono molte attività economiche che gravitano attorno al turismo agli eventi, alle manifestazioni che creano indotto e quindi insomma concentrare tutto in soli tre mesi è un peccato insomma è riduttivo è riduttivo insomma insomma quindi però tutti parlano di spalmare di allungare la stagione e poi non si è mai riuscito a farlo ecco è possibile raggiungere il tuo risultato sì noi riteniamo che sia possibile se si ha la consapevolezza delle difficoltà che oggettivamente ci sono ma anche il desiderio di organizzare insomma un programma diverso da quello fatto fino ad oggi e che sia adeguato proprio a questo scopo quindi noi vogliamo come dicevo prima promuovere un turismo scolastico ma a livello nazionale quindi invitare tutte le scuole secondarie, primarie del nostro paese a venire a Fano mostrando quali sono le nostre bellezze organizzando proprio dei pacchetti ad hoc le due grandi direttrici potrebbero appunto essere continuare ad essere come dicevo prima il Carnevale e la Fano dei Cie cioè la città di Vitruvio insomma la Fano di Vitruvio e naturalmente questo deve andare di pari passo con il recupero dei siti archeologici con la loro fruzione che sia possibile sia di persona aprendo al turismo queste aree ma anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie ma questo non basta perché Fano ha bisogno di anche un'altra spinta turistica che sia il turismo sociale quello convennistico e quello sportivo però ne abbiamo già parlato qualche tempo fa mancano le strutture quindi la prima struttura in assoluto che secondo noi va realizzata è una struttura polifunzionale che sia adatta ad ospitare convegni ma anche eventi e spettacoli e quindi Fano sconta una mancata progettazione e quindi bisogna correre i ripari e cercare di realizzare il prima possibile per recuperare il tempo perso finora una struttura indoor è sicuramente l'ideale perché si presta a tante cose però sarebbe bello anche avere qualcosa outdoor cioè all'aperto tipo campo volo mi viene in mente uno spazio che può ospitare anche attività attrattive per i giovani certo, noi proprio in programma abbiamo questa realizzazione di un palco attrezzato nella zona aeroportuale esattamente come il campo volo di Reggemila che è molto attrattivo per i giovani perché lì si possono fare dei cicli di non solo conferenze ma anche concerti di richiamo tra l'altro anche strategicamente quell'area è favolosa perché siamo all'uscita dell'autostrada della superstrada siamo fuori dal centro abitato quindi non c'è la questione del disturbo potrebbero nascere intorno tante attività stabili o meno stabili però potrebbe essere veramente un volano economico legato al turismo ma indirizzato soprattutto alla fruizione ma anche al mettersi in gioco da parte dei nostri giovani certo, poi l'inquinamento acustico in questi casi è sempre la spada di Damocle invece in questo caso siamo distanti quindi non ci sarebbe disturbo per la quiete pubblica per la quiete pubblica e la sicurezza e la sicurezza perché poi dopo lì ad ampi spazi non ci sarebbe neanche quel problema lì esatto che anche quello è purtroppo un aspetto che ci sta penalizzando non poco negli ultimi tempi insomma quindi storie identità e insomma connotano la comunità locale fanese insomma abbiamo visto il carnevale la romanità soprattutto vedo che vi sta molto a cuore e insomma per rafforzare questi questi concetti sull'identità se nel caso diventerà sindaca della città di Fano come li porterà avanti? Allora sono insegnante di lettere quindi ho una predisposizione naturale un pochino per questi temi quindi secondo me va promossa l'attività dei nostri autori scrittori locali assolutamente anche tutto quel filone di romanzi o anche racconti brevi che adesso hanno preso piede negli ultimi anni che hanno Fano come luogo o come tradizioni al centro della loro storia soprattutto ultimamente sono stati scritti tanti romanzi gialli quindi per quanto riguarda il primo tema gli autori che hanno avuto successo non solo a livello locale ma anche a livello nazionale tra questi c'è Giulio Grimaldi Fabio Tombari Valerio Volpini Giuseppe Bonura Luciano Inselmi tra i tanti e sicuramente va istituito presso le nostre biblioteche un fondo e poi va iniziata una promozione capillare all'interno delle nostre scuole quindi vanno promosse insomma queste personalità così importanti e poi invece per il filone che riguarda i romanzi e i racconti brevi come dicevo prima abbiamo intenzione di creare un premio ad hoc il premio Frusaglia che si riferisce al nome del luogo immaginario in cui è stato ambientato il primo romanzo di Fabio Tombari che ebbe tanto successo nel novecento e questo potrebbe essere un premio che viene riservato a racconti e romanzi e romanzi e racconti lunghi ambientati a Fano o scritti da autori fanesi di elezione oppure di nascita quindi qualcosa in più che oggi non c'è insomma quindi un riconoscimento anche a chi parla di Fano chi scrive di Fano chi la traccia proprio come connotazione all'interno di un'opera d'arte sia perché è nato a Fano ma anche perché racconta di Fano quindi fa conoscere Fano un po' in tutta Italia vanno premiati questi fanesi perché magari affrontano aspetti o sono a conoscenza di alcune particolarità luoghi o singolarità che magari neanche i fanesi o forse non li conoscono quindi sono dei divulgatori del patrimonio culturale e vanno giustamente enfatizzati mi viene da pensare insomma da non fanese però da colui che apprezza questa parte della società che il vernacolo e il dialetto è sicuramente una parte fondante poi voi qui a Fano ci tenete proprio avete proprio avuto modo di notare nel tempo che ci tenete molto insomma quindi poi mi sembra che anche la regione Marche sinceramente da qualche mese ha varato qualche provvedimento proprio che spinge in questa direzione quindi c'è un forte una forte richiesta identitaria a questo riguardo anche se lei è un'insegnante di lettere però comunque la poesia dialettale comunque è importantissima e in questo senso per quanto riguarda Fano la promozione che vorremmo fare è sul teatro dialettale perché Fano ha una tradizione molto lunga ampia e quindi innanzitutto cominciare un'opera di catalogazione all'interno delle nostre biblioteca delle opere originali che sono state scritte per la messa in scena di rassegne come Cianfrusaglia che si svolge al Politeam è una rassegna a cui i fanesi sono particolarmente legati e poi riscoprire il premio Grimaldi che esisteva fino a qualche anno fa che poi è stato dimenticato insomma secondo noi andrebbe proprio riscoperto perché l'identità della città si scopre anche attraverso l'utilizzo della lingua del dialetto e quindi sicuramente il teatro dialettale è la forma più popolare di utilizzo del dialetto per cui vorremmo rispolverare questo premio e siccome è stato un pochino accantonato perché partecipavano più o meno sempre gli stessi autori che scrivono opere teatrali in dialetto vorremmo ampliare e renderlo più appetibile facendo partecipare anche opere scritte in lingua italiana però da autori fanesi e quindi vedere di avere più materiale da vagliare e da premiare eventualmente quindi io ho iniziato questa campagna elettorale con lo slogan Fano sicura di sé dicendo che Fano deve tornare ad essere sicura dei propri talenti delle proprie potenzialità delle proprie opportunità essere forte della propria identità insomma questi aspetti culturali sicuramente vanno inseriti in questo contesto più ampio ecco insomma come sempre si dice bisogna crederci un po' certo bisogna crederci molto crederci molto perché se soprattutto noi che viviamo la città ci crediamo questa identità questo orgoglio un po' di sano orgoglio senza voler mettergli in mezzo il campanilismo in modo sano ci vuole un pochettino per essere più allora in questo momento storico il fanese si sente un pochino sempre sottostimato perché spesso le decisioni vengono calate dall'altro vengono prese da Pesaro da Ancona quindi invece dobbiamo riscoprire noi stessi le nostre potenzialità essere convinti delle politiche che possiamo portare avanti anche quelle culturali sono fondamentali insomma il patrimonio archeologico che abbiamo noi vicino a Fano non c'è e quindi dobbiamo essere forti di questo valore aggiunto e riuscire a promuoverlo potenziarlo valorizzarlo quindi tornare a sorridere al nostro futuro al nostro futuro e in questo l'amministrazione ha un compito importante perché poi a cascata i cittadini si sentono spalleggiati diciamo così sicuri di loro benissimo Marta Rogel il tempo tiranno anche questo approfondimento è terminato siamo arrivati in fondo abbiamo toccato un argomento saliente tra i più salienti diciamo oltre ad altri che questa campagna elettorale vengono affrontati ma quelle del turismo della promozione sono importanti visti nell'ottica proprio dello sviluppo di un territorio anche dal punto di vista economico come volano di attività e anche di benessere della città e del tessuto sociale quindi non è un tema frivolo anzi è un tema trainante importantissimo e che va affrontato con le giuste tematiche e con le giuste argomentazioni noi abbiamo conosciuto questa sera quelle del Movimento 5 Stelle grazie a Marta Ruggeri per essere stata qui grazie a lei in bocca al lupo per la competizione elettorale cari telespettatori grazie a voi per essere stati qui in nostra compagnia e vi rimando ai prossimi approfondimenti arrivederci buonasera grazie a tutti